Ehi tu, si proprio tu, lo sai che io ho un mio discord, discord.gg se lascia sbrinzer Spesso e volentieri vado nelle pubbliche per parlare con voi E oltre questo faremo degli eventi proprio per voi all'interno del mio discord Quindi scarica l'applicazione dal cellulare o installatela nel computer Perché molto presto ritorneremo anche a fare le open lobby sia private che in live Discord.gg se lascia sbrinzer, ciao! Oh mio dio ragazzi, ma quello è un enderman? Sì, è un enderman Non guardatelo, inface l'Ole, guardate l'Ole Oh mio dio, no, oh Gesù, oh Gesù Oh mamma mia, meno male che l'Ole, me ne sono andato via in questa grotteina Ok, 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 ragazzi mi raccomando lasciate like in questo momento per farle spawnare quell'enderman, pronti? Ecco, 3, 2, 1 Ok, bene, perfetto, mi sa che se n'è andato, ottimo Aspettate, dove stanno i miei amici? Ragazzi, ragazzi, tutto ok? Sì, sì, ma deve stare bene Sì, ma sbrinzer? Ma sbrinzer? Sì, non è che lo stai insegnando il mostro Sbrinzer? Sì, cosa sto? State pensando anche voi quello che sto pensando io? Vediamo Non c'è questo cartello? Non è di nessuno No, vabbè, io ne voglio Sì, sì Sì, non c'è Ah, punto Quindi andiamo Sì, ho capito, ma sono suoi Ma smettila di far così Andiamo Ehi Oh, va bene La 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 Sì, mi hanno fregato i miei diamanti Oh, perché sono scomparso Oh, mio Dio Sapete cosa? Sì Credo che posso fare un bellissimo scherzo ai miei amici Dato che gli sono fregati i miei diamanti Fregandosene completamente che fossero i miei Oh, sì Adesso vi faccio vedere io Che cavolo di scherzo gli faccio Molto bene Adesso vi faccio vedere quello che ho in casa Dentro questa porta segreta C'ho una chest con all'interno Come potete ben vedere Una locandina di me scomparso E adesso questa locandina la utilizzerò Così che i miei amici possono pensare Che io effettivamente sono scomparso Ok, mettiamola ad esempio Vicino casa di Zoe Così che lei appena scende Scoprirà che sono scomparso Ecco, perfetto Mettiamola anche Mettiamone tante Mettiamone tante così Appunto si impanica Perfetto Ok, adesso andiamocene via E aspettiamo che domani si svegli Così che si sveglia Con la mia locandina Ok, perfetto Che bella giornata oggi No, dai Mi hanno messo altri volantini pubblicità Sfrizer scomparso Ehi, che succede? Che giurlo sei Che succede? Che succede? Guarda Che stai tornando? Cosa? È scomparso Sfrizer Ma non era con voi Ieri Sì E però È preso da un coso strano È un enderman gigante Come è stato rapito da un enderman? Dobbiamo cercarlo Ma siete andati a dormire così Senza fare nulla E non mi avete detto niente Sfrizer scomparso Sfrizer scomparso Sfrizer scomparso Il mio piano sta funzionando Ok Dobbiamo cercarlo ragazzi Sì Ma dove incominciamo Dalla foresta Non ho idea Dove ti pare? Tu fai qualcosa La polizia Sennò La polizia è giusto Ho esagerato Lo cerchiamo prima noi Se no ci danno La colpa a noi La polizia Non lo so Dici Ok bene Adesso sapete cosa faccio Adesso faccio Un paio di cosette Per fargli spaventare Ancora di più State a vedere Ok perfetto Allora Scrivo questo cartello Apri Se vuoi Trovare Sfrizer Perfetto Ok Andiamoci ne via Andiamoci ne via Ok speriamo che Ci caschi Cos'è? Apri Se vuoi trovare Sfrizer Oh subito Un libro Cosa c'è scritto? Ci vediamo nella casa abbandonata Devi essere da sola Casa abbandonata Vicino a fruttivendolo Sconosciuto Devo correre Devo correre Ottimo Mi è passata ancora Mi interessa C'è cascata Sì Ok ok Seguiamola 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 Ok Dobbiamo andare a scoprire Se appena arriva lì E noi ci vestiamo in un modo Che la facciamo spaventare adesso Oh sì 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 Non ha idea di cosa la attende ragazzi Io Io ho messo una trappola assurda Ok eccola 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 Sta entrando nella casa abbandonata Oddio Sono qua Sono arrivata C'è qualcuno Oddio 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 C'è qualcuno Qualcuno Ok bene 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 Adesso andiamo da lei Pronti Ok ci vestiamo così Perfetto Ci mettiamo il coltello Ok a cavolo La voce devo modificarmi Varo Mi metto questa voce Qua così Ok perfetto Ehi Mi hanno presa in giro Sei venuta Salve sì Sono arrivata Cosa le serve Le serve qualcosa Per trovare Sbrizer L'ho preso lei Vuoi il tuo amico Sbrizer Sì 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 Oh capisco Beh Per avere il tuo amico Sbrizer Devi darmi la tua vita Ah no 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 Dove scappi Vieni qua Vieni qua Dove scappi Lasciami in pace Lasciami in pace Vieni qua Non mi scappi Non mi scappi Lei faccia sempre scappa Oh mio dio No 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 Oh questo è aperto Ecco Perfetto Ok Ah adesso non mi scapperei mai Lo sai vero Adesso se vuoi riavere il tuo amico Sbrizer Devi dirmi dove stanno i diamanti Che gli hai rubato Dove stanno I diamanti Sì I diamanti sono Nel barrel vicino al mio letto Adesso se mi face E basta Evitarmi sui romanti Sono là Sono là Stiamo sicuri che stanno là Sono sicurissima Ah I cani ma io sono super lavatrice Tranquilla signorina Adesso io ti salvo da super lavatrice Oh grazie E tu chi sei Ah forfante Io sono super lavatrice Io sconfico il male E adesso tu battere via Altrimenti ti faccio girare Fino a farti vomitare Io posso scappare Sì Sì c'è una porta lì Puoi scappare Oh grazie mille super lavatrice E poi ti darò i soldi Ciao Ciao Hai capito adesso Battiti contro di me Oh Aspetta ma Io Sembra che mi ricordo Della tua voce Tieni questa maschera Oh no Hai scoperto la mia vera identità E adesso come farò mai Noob Eh Questa voce Sono io Noob Fraser Oh mio dio Ma che cosa sto facendo Se ti si è messa a fare il criminale No noob Oh mio dio Oh Ah sciabolette Comunque almeno mi ha detto Dove stanno i miei diamanti Allora cosa sta accadendo Non è di scomparso Ci sono dei volantini In giro Ti lo so Ero scomparso Ma è quello che sto facendo credere ai miei amici Oh Sto facendo una scherza ai tuoi amici Sì Sto facendo una scherza ai miei amici Noob E adesso Dato che ci sei tu Che hai scoperto questa cosa Puoi diventare un mio complice Va bene Oh Va bene Però perché gli stai rubando i diamanti Perché loro mi hanno rubato i diamanti Noob E gli sono approfittati Che io sono scomparso Per rubarmi i diamanti Amici brutti Eh infatti Adesso mi sto avvendicando In questo momento Forza Andiamo a casa di Zoe Sperando che ancora Non sia entrata dentro casa sua Am Am Va bene Dobbiamo trovare i diamanti Di sono certo che li troveremo Eh Ma perché ti piace stare vestito in questo modo Io sono super lavatrice Ma che cacchio di super potere è Ma zitto Ok Ssh Zitto Zitto noob Sì tranquillo Sono Sono molto bravo A fare lo sneaker sneaker Ok Vicino al letto No 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 Bingo Trovati Li trovate Sì l'abbiamo trovati Ok Adesso li riporto indietro Da dove sono arrivati Oh Va bene Eh Eh Come dovrei aiutarti adesso Mmm Ah Stai io come potresti aiutarmi Noob Ok Ok Guarda Vedi Noob che c'è il cruco lì Chiamami lavatrice Super lavatrice No ti chiamo Noob Ok Super lavatrice Ok super lavatrice Guarda Vedi Lì dentro c'è il cruco Sì Ok Adesso io Con questa piccola macchina telecomandata Gli consegnerò Questo biglietto Ok Da visita Per andare in un posto E poi E te Ben Lo prenderemo E lo Gli obblicheremo a dirci Dove stanno i suoi I diamanti che mi ha rubato Ok Ottimo va bene Ok perfetto Ok Via attiva Ok Guarda guarda come va Oddio vai macchinina Ok perfetto Adesso gli darà Il libro E cos'è questo robo Mi lasci Perché hai dato il libro Gliel'ho droppato Gliel'ho droppato Allora Eh Se vuoi Ritrovare Scrizer Vai alla sauna Cosa Devo spiegarmi subito Alla sauna Quale sauna Ok bene Perfetto Macchinina Vai a casa Vai a casa Vai a casa Ok bene Perfetto Adesso Adesso dobbiamo Correre Perché Crucco Stanno andando alla sauna Ok Ok va bene Sbrighiamoci Sbrighiamoci Andiamo Ok lì È lì Guarda 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 che mi vesto Ecco Guarda ci sono Oddio Ok perfetto Sai Ci sono Ok Andiamo 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 C'è qualcuno Ci sei Qui forse Cavolo Che caldo che fa Gli la porta Gli la porta Ok Ehi Ehi Salve 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 un paio di Salve un paio di scapole Io sono Sbris Cosa Anden 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 E' il ladro Di Sbriser Sì Esattamente Quello che ha detto lui Io sono il ladro Che ha rubato Sbriser Intinati davanti al mio cospetto Ok sì Certo Allora Stai cercando il tuo amico Perché lo vuoi salvare Immagino Dico bene Sì Ok, senti qua allora Io te lo dico subito chiaro e tondo Devi dirmi dove stanno i diamanti che gli hai rubato a Svriser Dimmelo subito No, perché poi li rubate voi Diggialo subito, forfante Dimmelo Che ci vuoi fare a quei diamanti Semplicemente Devo prendermeli per me Ma non mi importa Dimmi dove stanno i diamanti Dimmelo Non lo dirò, difenderò i diamanti a costo di ritrovare Svriser da solo Ah sì, allora Sfogliati 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 Perfetto Dentro, dentro la vasca Dentro la vasca Che volete fare? Noob, noob, c'hai un cellulare? Cosa? Sì, ce l'ho Ok, registra, registra Ok, va bene No, 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 che volete fare? Fermi, fermi Allora Ecco, stiamo facendo un video Se non ci dici dove stanno i diamanti che gli hai rubato a Svriser Noi pubblicizzeremo questo video ovunque Cosa? Beh, stanno Stanno anche in casa mia Va bene Precisamente Nello scarico della doccia Nello scarico della doccia? Ok Sì Va bene Corriamo 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 Qua in teoria Ecco Ah, sono qua Li ho trovati, Rub Oh mio Dio, bravo Ok, perfetto Ok, va bene Grazie, Rub Adesso devo andare da Violet Non mi servi più Ma sei sicuro? Posso partire a spalla? No, no Tranquillo A posto Va bene E allora Super lavatrice se ne va Adios La 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 Ah, che tipo strano Noob Ok, adesso andiamo a riposare i miei diamanti dove li ho messi insieme agli altri E andiamo a vedere dove li ha messi Violet i diamanti Però cosa posso fare a Violet adesso? Mmm Idea Ok, ok, perfetto Dovrebbe essere dentro casa Violet Ok, adesso Guardate Ho praticamente delle cose per fare una scia e portarla in un punto per intendergli una trappola Fate a vedere Allora Ecco Vedete? Ok Bene, mi metto qua il cartello Segui la magia per trovare Freezer Perfetto Ok Ok, facciamogli una scia Così che può appunto seguirla E la facciamo andare verso questo parco giochi Qua davanti Esatto Ok Eh, le metto uno qua Ok, perfetto Ok, ne mettiamo uno qua l'ultimo Anzi, questo qua non lo metto Credo che ci possa stare comunque Ok, bene Adesso aspettiamo E vediamo appena arriva Ok Che, che, che Andiamocene via Andiamocene via Andiamocene via Arrivo Salve Non compro niente È notte fonda Chi dovrebbe essere? Cosa? C'è qualcuno? Segui la magia Per trovare Freezer subito Dov'è la magia? Magia? Sì, è qui È nella magia Ok, perfetto Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Resta parte Ok, 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 ok Mettiamoci pronti Mettiamoci pronti Mi metto Sopra Ok Lì Sono tutti pronti Sei tutto pronto lì Ok, perfetto Ok Sto arrivando Freezer Vengo a salvarti Ok, la voce c'è Ok, la voce c'è Perfetto Canali Eccolo lì Sto arrivando Sto arrivando Questa è l'ultima particella Freezer Sei qui dentro Sono venuto a salvarti Sono io Sono Violetta La tua migliore amica di sempre Tu non sei Freezer No, non sono Freezer Ma Sono qualcuno Che lo conosce molto bene E io so Cosa hai rubato Freezer Io Prima che gli hai rubato Dei diamanti Vero? No, non hai prove Di quello che stai dicendo Gne 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 No, no, prove Di quello che sto dicendo io Ok, va bene Senti Perché è un coltello? Non credi che sono davvero Così tanto cattivo Quando le sembro? Eh? No, sembri soltanto Un uscito Da un gioco strano Ah, sì? E allora Cosa accade Se Faccio Questo? Ah, ma no Cosa hai fatto? Mi aiuto Ci credi ancora? Aiuto No, fammi uscire di qui Vattene via Beh Ti conviene Mettere i tuoi piedi Sossi sopra qualcosa Perché tra non molto Ci sarà Florislava 3, 2, 1 Via No, no No, aiuto Allora Credi davvero che io stia scherzando? Aiuto Ti prego Non volevo farlo L'hanno presi tutti I diamanti Non sono stata solo io Non mi importa È una cosa che non si fa E a parte questo Che Sviser Che l'ho catturato io È molto triste Di questa cosa Che gli ho detto Ovvero che gli avete voltato le spalle Che amici Quali siete Comunque me ne siete fregati Mi siete fregati I suoi diamanti No mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Gli erano tutti i diamanti Tutti e quattro Tutti Tutti e quattro Ok Dimmi dove stanno i diamanti Ora Io sono dentro la mia casa In una In una botte Se io adesso Ti chiedo di guidarmi Verso quella casa Tu mi prometti Che mi fai vedere i diamanti Non posso Perché c'è la lava Ok La tolgo Ah ok Allora sì In quel caso sì Ok Tolgo la lava Uno Ecco fatto Poi tolgo pure questi Ecco fatto Ok Andiamo Ok Da questa parte Sì Infatti Io Devo Vedi che ti sto attenta Ti sto attento dietro E tu coltello Che ti punta proprio nel culetto No no Il coltello Il coltello Della magia No No Questo Lasciamo Andiamocene via Ok Andiamo Andiamo Bene Bene Sto andando Sto andando Fammi vedere Dove stanno i diamanti Si rubato A sveglia Ma sto qui In questa Ok Questa è casa tua Puoi entrare E per educazione Dove sei qui Dentro questa botte Oh Brava Brava bambina E adesso Io me ne vado Ciao Torna presto No Non tornerò Ah Perfetto Sì Mi sono fregati sui diamanti Ottimo 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 Di bene In meglio Di bene In meglio Di bene In meglio Ok Adesso Di riposo Qua Ok Ok Mi sono ripreso Tutti Di diamanti Erano Perfettamente 64 diamanti Perfetto Perfetto Ottimo Ragazzi Ci troviamo qui Uniti Per inaugurare La nostra Nuova torre Di avvistamento Per sbrisa Sì Ah molto bello E qui Potremmo fare a turni Per guardare Nelle zone Limitrofe Se lo troviamo Però Prima di Usarlo Io Dedicherei Qualche momento Per spendere Qualche parola Sul nostro caro amico Sbrisa Ma non ha il portafoglio Sì Concordo Concordo Allora possiamo Innanzitutto dire Sbrisa Sbrisa Sempre un grande amico È sempre stato presente Per noi È vero Ci ha aiutato In varie situazioni Certo Che gli scherzi C'è un po' Nè Però Qualche difetto Non lo accettiamo Vabbè Però Nostro amico Comunque Noi gli vogliamo Un mondo di bene E poi ci fa tante cose Cioè Fa tantissime cose Per noi È Fantastico Ti vuole fare beatbox Quando? Vabbè Quelle scorreggiamo la bocca Sì E quindi E nulla Spero di ritrovarlo presto Infatti facciamo una bella festa quando torna Non sono fantastico se ci girassimo E fosse qui dietro di noi Ragazzi Non ci credo Non pensavo che mi voleste bene Oh mio dio In che senso Quindi era uno scherzo Stavo rigliando Mi avete fregato i diamanti E in quanto mi avete fregato i diamanti Perché avete creduto che io fossi scomparso Mi sono venuti a prendere appunto Questo quello io Non ci Ma scusami Non potevi richiederci l'indietro e basta Che il solito birbole E adesso ho capito che Vidarsi è bene Ma non fidarsi è meglio Ma che guardi proprio bene Bene ragazzi Mi raccomando se questo video vi è piaciuto lasciate like Iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo in un prossimo Nuovissimo video ciao ciao Ciao